Alessandro è uno studente di ieri del nostro regista, ideatore, Pierpaolo Segneri. Alessandro è sempre presente nell'intenzione, non solo, ma anche di fatto, con le proposte di quello che è diventato tuo ex professore. Questa sera, Alessandro, voi ex studenti avete dato prova della vostra capacità di analisi, di sintesi, un nome per tutti, quello di Michela Biancini, che ha realizzato gli scatti fotografici a cui è dedicata questa esposizione. Intanto, Alessandro, che idea ti sei fatto di questa mostra? Come prima domanda. L'idea della mostra è stata splendida, riesce a vedere l'introspezione di Bocciarelli proprio nella parte di Chaglone, le varie scene. Tra i miei scatti preferiti ci sta quello dove lui apre una tenda, che si vede questa tenda poi messa su una tenda reale come se unisse verso di noi. Ho avuto modo anche di vederle come prima persona queste foto, queste immagini, perché insieme col professore abbiamo allestito la mostra fotografica qua al teatro e mi sono subito commosso in queste immagini spettacolari, come ha detto la stessa ragazza, una delle più belle, quella in penombra dove si vede proprio l'attore fuso col personaggio stesso che guarda nell'anime tutti noi come può essere Charlie Chaplin e Charlie Law con il suo grande personaggio, anche bagaglio culturale che ha lasciato a tutti quanti. Alessandro, tu quanti anni hai? 19 anni. Ecco, 19 anni. Tu prima di vedere questa mostra, prima di sentire il professor Segneri, conoscevi il personaggio di Charlie Chaplin e poi quello della sua icona per eccellenza Charlot? Oppure questa mostra e questo linguaggio fotografico molto molto importante ti hanno sollecitato e stimolato degli studi più approfonditi. Lo conoscevi già o ti sei aperto un mondo con questa mostra? Lo conoscevo ma non in maniera molto approfondita, avevo visto il film del Dittatore, basta qualcosa alle medie, ma non ho approfondito molto. Adesso mi ha dato questo stimolo a approfondire anche con l'intervento di Bocciarelli quando è apparso dal palco magistralmente e ha fatto il grande dibattito finale, molto emozionante ed espressivo verso noi. Alcuni si sono spaventati anche per la sua grande interpretazione, sofferenti in alcuni passi, ma in altri invece dolce e commovente sull'umanità che si deve ribellare alla meccanizzazione del proprio cuore, ma deve ritrovare quest'animo e questa voglia di vivere. Sì, mi emozionano molto in un futuro, visto che sto in quarto liceo, quando andrò in quinto, se mi è possibile fare la tesina su questo. Alessandro, diciamo che però tu sei un po' uno studente sui generis, c'è il fatto stesso che tu sia qui insieme ad alcuni compagni, colleghi, ex compagni. Insomma, voi dimostrate una sensibilità un po' speciale, diciamo la verità e non nascondiamoci dietro un dito. Questo negli altri ragazzi della tua età, tu lo riscontri o che cosa manca secondo te? Non lo riscontro in molti, manca molto la voglia stessa di alcuni ragazzi, perché davvero non andiamo a fasciare tutti quanti, non gli interessa a tanti ragazzi. Può essere dagli stimoli, può essere la stessa voglia dei ragazzi, però più che altro a non voler interessarsi più agli artisti del passato, preferiscono avere la pappa pronta adesso, la risata facile, la battuta stupida che è andare a riflettere molto sul pensiero. Quindi l'immediato, l'immediatezza, preferiscono questo. E meno l'approfondimento. Esattamente. Allora, posso chiederti che cosa secondo te, da studente, siccome ho fatto la stessa domanda a una docente universitaria e poi a un dirigente scolastico, ok? Posso chiedere a te, studente, che cosa manca secondo te nella scuola di oggi? Cosa manca nella scuola di oggi? Ovvio tante cose, però dimmene una in particolare che a te sta a cuore. La voglia di entrambi, se degli studenti che dei professori, di esprimersi l'uno con l'altro, perché i ragazzi sono tutti quanti a puntare il dito dicendo subito no, è colpa della scuola se non vado avanti, no, è colpa di loro perché non vogliono studiare. Per alcuni ragazzi che hanno un debito di storia e dicono no, non la capisco, non c'è bisogno di capire, la devi studiare. E molti professori invece che guardano i ragazzi pensando non a delle persone ma a dei numeri o a dei voti. e non può essere una cosa del genere. C'è bisogno da entrambi le parti di un maggiore accordo. Grazie. Grazie Alessandro. Grazie a tutti.